Monte Pulciano Dock sulle colline della provincia di Teramo. Teramo ha un suo territorio molto originale, molto particolare. Si contraddistingue per una composizione del terreno piuttosto pesante e induce una qualità dell'uva notevolmente superiore dal punto di vista della concentrazione. E nel bicchiere il Monte Pulciano Dock come si esprime? Nel bicchiere si esprime con questi colori che quando sono giovani, i primi due o tre anni, sono orientati al violaceo, poi progressivamente acquistano toni leggermente più ambrati. Hanno un grande corpo, abbiamo questa lieve sensazione di astringenza nel finale di bocca, che però viene ammorbidito, smussato, con un opportuno affinamento in cantina. Grazie. 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 Grazie.